Dopo il successo delle prime due edizioni torna l'Altamura Jazz Festival, organizzato dall'Associazione Culturale Amici del Jazz e dalla Proloco di Altamura. Saranno quattro giorni dal 25 al 28 luglio dedicati al jazz con concerti dal vivo che avranno come cornice il chiostro del Museo Etnografico dell'Altamorgia. Negli studi di Teleappula, Domenico Sardone, coordinatore dell'evento. Come mai ad Altamura un festival dedicato al jazz, un genere musicale così lontano da noi? Beh, innanzitutto voglio ringraziare la città di Altamura per il patrocinio che ci ha messo a disposizione per poter effettuare la terza edizione dell'Altamura Jazz Festival. Dopo le due edizioni che hanno avuto molto successo ad Altamura abbiamo avuto l'energia e la forza tramite gli sponsor che ci hanno supportato per promuovere e organizzare noi dell'Associazione Culturale Amici del Jazz la terza edizione di questo festival. Un festival che in realtà vede protagonisti come musicisti, realtà locali che hanno attraverso questo canale, quindi questo evento, la possibilità di mettersi in gioco e di comunque affermare la loro bravura e posso dire che Altamura risponde abbastanza bene perché nelle quattro serate dell'anno scorso e della prima edizione abbiamo comunque avuto una grande risposta dalla nostra città. Tra i vostri obiettivi, oltre a quello di far conoscere il jazz agli Altamurani, è anche quello di valorizzare il nostro centro storico? Ebbene sì, l'obiettivo è quello di mettere al centro d'attenzione il museo etnografico dell'Altamurgia, un museo che vede al centro quello che è il vissuto attraverso gli oggetti, attraverso le fotografie di una realtà contadina dell'Altamurgia. Quindi rendere fruibile anche uno dei gioielli di Altamura presenti in un tessuto culturale contadino. Quindi avere come centro per la musica jazz, quindi musica che nasce dalla spontaneità, la stessa spontaneità contadina che ritroviamo negli utensili e nelle fotografie che raccontano il nostro passato e la nostra società altamurana. Cosa prevede il programma? Il programma ha quattro serate tutte all'insegna della musica jazz, ovviamente con artisti di caratura nazionale ed internazionale. Invito comunque voi che ci seguite anche su Facebook a visionare la pagina dell'Associazione Amici del Jazz Altamura e a trovare l'evento per quindi terza edizione dell'Altamura Jazz Festival per tutti i dettagli e le anticipazioni che poi seguiranno anche tramite i canali di Teleappula.